Grande successo di pubblico sabato scorso per il quinto quadrangolare di volley organizzato dal comitato genitori Sant'Orso e dall'Aves di Fano nel segno della solidarietà. Circa 300 persone hanno permesso di raccogliere quasi 1000 euro da devolvere a Tiziana e Vito Mezzina, i genitori del piccolo Federico che deve affrontare cure molto costose all'estero per combattere contro il morbo di Crabb. L'iniziativa che coincide con la riapertura del palazzetto dello sport dopo i lavori di bonifica dell'Amianto è stata aperta da un'esibizione delle ginnaste dell'Aurora Fano, poi sono scesi in campo i giornalisti insieme alle concorrenti di Miss Fano, ultimi classificati, i politici che hanno ceduto il titolo conquistato lo scorso anno ma anche i parroci arrivati secondi e la squadra formata dall'Avis e dalla Proloco che ha vinto il torneo. Non c'era modo migliore per festeggiare questa riapertura ma poi, diciamolo, è anche un momento di solidarietà perché dietro alla festa c'è anche un motivo nobile e questo fa onore a chi l'organizza, fa onore alla città che è sempre molto sensibile e quando è chiamata risponde sempre come deve e questo mi rende anche orgoglioso di rappresentare una città come questa. Soddisfatto anche il pubblico che ha gioito e regalato tanti applausi all'imitatore Antonio Mezzancella, finalista del programma TV Tu Sì Che Vales. Durante la serata l'artista ha annunciato che quest'anno la partita della nazionale italiana a cantanti si terrà allo stadio Mancini di Fano. L'iniziativa si svolgerà il prossimo 2 aprile, data che coincida con la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. I fondi saranno devoluti a due associazioni, alla Damo che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e all'Onfalos che aiuta i soggetti autistici e le loro famiglie ad invitare la cittadinanza anche Luciano Ligabue. Allora questa volta facciamo la partita a Fano, l'anno prossimo portiamo tutti quelli di Fano al campo volo così ci entra ancora più gente, va bene la facciamo là, però quest'anno mi raccomando 2 aprile a Fano.